Perché Massimiliano Allegri nella sua carriera ha sempre lanciato i giovani, ne ha sempre presi dal settore giovanile e li ha fatti debuttare in prima squadra. Lui lo sa bene come si valorizzano i giovani e sa bene anche, credo, che nelle ultime settimane stiamo giochicchiando un po' troppo sporco sul tema. Sekulov buttato lì, in quel modo lì, non è valorizzare un giovane. L'Inghe a Napoli buttato in campo poi rimesso fuori, non è valorizzazione dei giovani. Se Allegri vuole fare il Murigno, merita anche di fare la stessa fine ai Murigno.